Amici di Sportland, buonasera e benvenuti al Club Milano, dove tutto pronto per la semifinale di fronte a DV e Ones. Vediamo chi avrà la meglio. Petrone col testo. Largo di nulla, con deviazione. Petrone col testo. Rodas, attento. Attenzione, Petrone in area di rigore con il Mancino. Fuori di nulla. C'è stata però la grande parata di Rodas. Attenzione, il destro, il gol del vantaggio Peones con Piraghi. Attenzione, colpo di testa sul cross di Grandi, tentato da Amargo. Pirola, un po' di campo. Pirola va in porta col destro e trova un gol bellissimo. Pirola. Paganello cerca di liberare il Mancino. Poi serve Sacchi, che libera il destro. Dentro, colpo di tacco di Grandi. Conclusione con il Mancino. Gol meraviglioso di Grandi, che prova a riaprire i giochi. Tocco dentro e finisce qua. Finisce con la vittoria dei Peones per due reti a uno. Una vittoria che vale la finale del campionato over 45. Allora, siamo qua in compagna di Mariello, di Peones. Partita bellissima. Tesa soprattutto nel finale, dopo che l'hanno riaperta. Quel gol di Pirola fantastico, quel destro chirurgico che ci ha emozionato. Com'è andata? Ma diciamo che stasera è andata benissimo, anche perché abbiamo fatto la doppietta. E quindi, perfetto per il mondo Peones stasera. È una serata fantastica. Allora, difesa top. Siete riusciti a realizzare le occasioni che avete avuto, anche nella partita precedente. Tanto ci portano la zampione per le zanzare straordinarie. Quindi, comunque, la squadra ha sempre la stessa mentalità, che sia uno che sia l'altra. Siete un gruppo compatto, unito e poi si vede anche in campo. Sì, assolutamente. Quest'anno siamo stati veramente un gruppo fantastico. Sei al 35 e al 45. Abbiamo cementato a maggior di più l'amicizia andando a Ibiza. Giocando la finale anche lì, perdendola in me. Però il gruppo è fantastico. Ragazzi, non smettiamo più. Perfetto. Grazie e alla prossima. Ciao.